Benvenuti a tutti, benvenuti a questo Capodanno 2014 che cede il passo al 2015. Benvenuti qui alla Porzuncola, benvenuti e anzi ben trovati anche ai tanti che ci seguono via web. Facciamogli un applauso, dai facciamo sentire un po' di calore. Hanno sentito la nostra preghiera, adesso davvero sentiamoci in questa grande fraternità. Benvenuti, vi dicevo a tutti, qui molti di noi, frati, suore, ma anche molti giovani, qui siamo nati alla Porzuncola, siamo anzi rinati dalla misericordia, dal perdono di Dio. Qui sono le sorgenti di Francesco e Chiara, qui chi viene alla Porzuncola, tutti, tutti, tutti di qualsiasi religione, di qualsiasi storia, qui tutti si sentono a casa. Il Capodanno di quest'anno, qui e ora, ora è qui, è un titolo un po' sibillino, che cosa vogliamo dire? Ma una cosa molto semplice. Ci sono due coordinate dentro le quali la tua vita, la mia vita si muove. Sono le due coordinate dentro le quali ogni uomo vive, cresce, sogna, ama, piange, progetta. E queste due coordinate sono lo spazio e il tempo, qui e ora. E queste coordinate, lo spazio e il tempo, dalle quali spesso noi evadiamo, noi spesso scappiamo dallo spazio. Noi spesso scappiamo dal nostro tempo, invece proprio questo è coordinate, lo spazio e il tempo, Dio ha scelto di abitarle. L'Emmanuele, il Dio con noi, sempre. Allora qui, che cos'è questo qui? È lo spazio, dicevamo. Quanto è bello esserci tutto, esserci totalmente in quello che facciamo. Nello spazio che occupiamo, invece noi siamo sempre un po' spostati. Esserci tutto in quello che sei, in quello che fai. Vivere dentro il tuo spazio e non fuori dalla tua storia, cercando un'altra storia. Vivere lo spazio significa essere responsabili. Essere responsabili significa prendersi cura di quello spazio. Sai perché è importantissimo il tuo spazio? Perché quello spazio può ospitare qualcun altro. Il tuo spazio non è mai per isolarti. Lo spazio nostro ci è dato per ospitare l'altro, il fratello, che mi chiede di non fuggire dal mio spazio, perché altrimenti non troverebbe nessuno. E invece è importante, noi abbiamo bisogno degli incontri. Un giorno chiesero a Madre Teresa, Madre Teresa, che cosa non va in questo mondo? E lei con la sua semplicità, con la purezza di chi è bello, dentro e fuori, risponde «Quello che non funziona in questo mondo siamo io e te». Quando siamo fuori spazio, quando siamo fuori dalla nostra storia, quando viviamo non la nostra vita, ma un'altra storia. Ecco allora che lo spazio, il tuo spazio, è una terra santa. Lo spazio nostro, di ognuno di noi, è una terra benedetta. Un giorno Giacobbe, che sta scappando da Dio, a Betel, dice «Questa terra è santa e io non lo sapevo». Ecco, lo spazio che ci è dato è l'attenzione a dove metti i piedi. L'attenzione a dove metti i piedi, l'attenzione a portare un po' più in alto e un po' più in là la tua vita, per renderla migliore. Lo spazio che noi occupiamo è lo spazio della responsabilità, dove a un certo punto non ci accomodiamo più negli errori che continuamente commettiamo. Lo spazio è la responsabilità e il coraggio di rompere con i nostri disordini, di rompere con il cerchio di disordine che c'è in me. Lo spazio è la responsabilità che ci aiuta a liberarmi da una vita banale, da una vita mediocre, vissuta nella mediocrità, vissuta fuori dallo spazio che Dio invece ci dà, della nostra storia. Allora, lo spazio è rompere con il cerchio dei miei istinti, scollegati con la ragione per cui vivo, il progetto per cui vivo. La responsabilità, che è il nostro spazio, noi siamo responsabili dello spazio che ci è dato, e lo spazio che ci è dato, ci è dato per essere ospitali, per imparare a ospitare il dono dell'altro, che non può incontrarci se noi siamo fuori posto, che non ci può incontrare. Dio continuamente ci manda delle persone, dei doni enormi, ma noi spesso siamo fuori posto e non lo incontriamo, il dono. Francesco di Assisi diceva che in questo mondo ciò che conta è saper ospitare e saper essere pellegrini, ospiti di questa terra e pellegrini in cammino. Allora, il primo che ha fatto spazio per incontrarti è proprio Dio. Dio perde spazio pur di farti spazio e incontrarti. Qui, anche oggi, anche questa sera, in questo fine anno, Lui perde uno spazio per farti sentire accolto, quasi a dirti che tu vali più di Lui. Tu vali più di Lui. E poi, ora. Qui e ora. Ora è il tempo. Noi abbiamo una relazione strana con il tempo. Noi cerchiamo, noi vogliamo, vogliamo il tempo ma spesso non lo sappiamo gestire. Noi viviamo in una cultura, la cultura del digitale, dove un po' tutto è mescolato, un po' tutto confuso, che spesso non sai cosa è reale e che cosa è virtuale. Spesso questo spazio è velocissimo. Mi impressionava. Adesso noi stavamo pregando, stavamo cantando e c'era chi col cellulare riprendeva. Riprendeva quanta gente c'era. Perché forse dovevi essere lì, già, a postare qualcosa. Noi c'è qualcosa che non funziona. Stai vivendo spesso una cosa, ma tu stai già pensando, sei fuori spazio e fuori tempo. Perché questo presente ti sta interrogando, ti sta chiedendo di esserci in questo tempo. E tu sei già veloce, sei già fuori. Attenzione, ragazzi. Attenzione. Questo ora, questo oggi, questa cultura così veloce. È vero, è vero, eh? La velocità mi permette tantissime cose, l'abbiamo detto prima. Ci permette di essere in collegamento con tantissimi, anche questa sera. La velocità mi permette tutto. La velocità accorcia tutto. Ma sta attento che la velocità falsifica tanto. Falsifica tantissimo. L'uomo non è fatto per una velocità così immediata. Questo perché? Perché tutto ha un tempo. Tutto ha un ritmo. E ogni cosa è bella a suo tempo. Dentro il tempo che stai vivendo. Ecco perché qui e ora, ora, questo oggi, mi impressiona quando tu su WhatsApp immediatamente vuoi la risposta. E se non ti rispondono subito domandi, ma allora perché non rispondi? Ma quella persona può semplicemente essere, sta collegando quello che sta provando nella tua richiesta con la sua ragione. Sta collegando la risposta con i tuoi affetti. E non solo con l'istinto, con l'emozione. O forse quella persona semplicemente sta dicendo dentro di sé, ma perché io questa cosa così importante gliela devo dire in WhatsApp? E non faccia a faccia. Allora, attenzione, qui e ora, riabitare lo spazio e il tempo che ti è dato. Ricostruire la casa nel qui e nell'ora, senza essere buttati fuori spazio e buttati fuori tempo. Questo è importante perché? Perché non possiamo correre sempre. Perché chi corre perde la gioia dell'incontro. E qui facciamo il secondo passaggio. Noi non vogliamo perdere la gioia dell'incontro. E abbiamo ascoltato un Vangelo, il Vangelo di Luca, al capitolo 14, i versetti 15 e 24. Proviamo a vedere cosa ha da dirci questo Vangelo di Luca. perché qui ci sono delle indicazioni importanti da ricevere per vivere bene lo spazio e il tempo. Questo spazio e il tempo, questo qui e ora, che è diventato casa dell'Emmanuele. Primo aspetto. Dio ci dà continuamente appuntamenti. Il Dio dei cristiani è un Dio che ama fare festa, che ama invitare continuamente. Beato chi mangia il pane nel regno, nella festa di Dio. Dio è un Dio, il nostro Dio è un Dio che dà appuntamenti e lo fa sotto forma di invito. Avete sentito? Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. Il Dio dei cristiani è un Dio incontrabile. e lo incontri negli appuntamenti che ti dà. Mandò allora di cena a dire venite, è pronto. Gli appuntamenti di Dio. Primo aspetto, vorrei soffermarmi su questo. Gli appuntamenti di Dio. Dio non arriva tanto tempo prima. I suoi appuntamenti arrivano in modo sorprendente. Dio non è come il dentista che ti dà l'appuntamento. Tu devi essere sempre pronto agli appuntamenti di Dio perché ogni giorno, ogni istante è l'occasione favorevole per Dio. Dio fissa un giorno. Quale? Ogni giorno. Ogni giorno. e con Dio con Dio occorre cogliere l'attimo cogliere il passaggio. Lui non ti dice il tempo e l'ora. Lui fa gli inviti e i suoi inviti sorprendono. Sai perché? Perché gli inviti di Dio ti fanno vedere chi è il padrone del tuo cuore. Gli inviti di Dio ti fanno vedere a che cosa tu tieni più di tutto. Gli inviti di Dio ti sorprendono perché vogliono sconvolgerti, vogliono romperti i tuoi progetti perché il progetto di Dio è molto più grande. Allora gli inviti di Dio sono sorprendenti, rompono, lui agisce sempre fuori schema. Allora ricorda il primo aspetto importante degli appuntamenti di Dio. quando arriva Dio iniziano i viaggi dell'anima e finiscono i viaggi delle tue paranoie. Ecco perché è bellissimo quando Dio ti viene a incontrare. Quando arriva Dio finiscono le tue paranoie, i tuoi pensieri, i tuoi viaggi mentali e iniziano i viaggi dell'anima che sono i più importanti, che sono quelli che fanno la differenza. Perché Dio ci invita? Perché questi appuntamenti da parte di Dio? Perché Dio non può sopportare l'idea di mangiare da solo. Dio non può sopportare l'idea di mangiare in modo solitario. Prova a pensare quante volte e quanto è triste la tua vita tutte le volte che mangi solo, sola. Magari ti metti davanti alla tv per svaccato sul divano con il piatto in mano pur di non restare solo. Anche Dio. Dio non ama mangiare da solo. Ecco perché lui continuamente invita. Io sto alla porta e busso dice l'Apocalisse al capitolo terzo. Se qualcuno mi apre io verrò da lui mangerò con lui ed egli con me. Che cosa sono gli appuntamenti di Dio? Gli appuntamenti di Dio sono una cena a lume di candela con Dio. Dio è relazione. Il Dio dei cristiani è relazione. Dio è una cena intima tra te e lui perché Dio è fraternità. E Francesco d'Assisi qui l'aveva capito molto bene. Dio è fraternità. E quanto l'ha intuito Francesco Dio lo conosce molto bene il tuo desiderio di relazioni nutrienti. Questa è la tua fame. Tu hai fame di relazioni nutrienti. Quanti incontri fai che non ti sfamano che non ti dissetano che anzi ti rendono sempre più povero. Tu hai bisogno di relazioni nutrienti. Ecco perché Dio ti invita. Allora lasciati trovare da Dio. Nel Vangelo chi cerca non trova ma viene trovato da Dio. Ecco gli appuntamenti di Dio. Vieni trovato da Dio. È la fraternità la fraternità si allarga e si dilata sulle misure di Dio perché Dio è relazione. Tu sei un uomo una donna cercato da Dio perché Dio ha nostalgia di te. ha fame di te di fare esplodere il tuo desiderio d'amore che ti porti dentro. Allora attenzione se ti lasci trovare tu ti metti dalla parte di Dio e chi è dalla parte di Dio non è mai contro nessuno ma sempre a favore di tutti. Questa è la bellezza di chi si lascia incontrare da Dio chi si lascia incontrare da Dio è dalla sua parte e se tu sei dalla parte di Dio non hai nessun nemico non sei mai contro nessuno ma sei a favore di tutti e inizi a guardare il mondo con gli occhi della fraternità. Allora attenzione quanti appuntamenti Dio ti ha dato e tu non c'eri. guarda quante volte ti hanno bidonato ti hanno tirato il pacco hai dato un appuntamento e non è venuto nessuno pensa come stai tu ma Dio non è frustrato come noi Dio sta da Dio allora attenzione tu prova a pensare quanti appuntamenti Dio ti ha dato e tu non c'eri questa è la stranezza del cuore dell'uomo quante occasioni mancate hai nella tua vita perché perché avevi l'appuntamento che poteva essere la svolta io penso sempre prova a pensare a Simone di Cirene colui che ha aiutato Gesù a portare la croce se Simone di Cirene arrivava cinque minuti prima o cinque minuti dopo non c'era quanti appuntamenti Dio ti ha dato e tu non c'eri ma è possibile che noi uomini dobbiamo accorgerci di quanto una cosa valeva quando l'hai persa ma quante storie noi ascoltiamo di ragazzi di ragazze che Dio gli stava mandando degli appuntamenti fantastici mandandoci mandando delle persone belle delle relazioni nuove delle occasioni nuove e tu non c'eri e tu ti accorgi del valore di una relazione di una persona di una situazione di lavoro quando l'hai persa e stai lì in modo nostalgico a rimproverarti ad accusarti allora attenzione basta lagnarti del tempo perduto delle occasioni mancate dell'amore fallito perché ti stanca questo qui è ora ora è qui sta alla porta una novità accoglila secondo passaggio i primi invitati sono invitati a questa cena avete sentito e i primi invitati iniziano a scusarsi guardate che gran parte delle nostre giornate noi le occupiamo cercando giustificazioni cercando scuse per non fare quello che a volte lo spirito santo spinge dentro di noi i primi invitati iniziano a scusarsi dicono guarda scusami perché ho acquistato un campo scusami ho acquistato cinque buoi devo andare a provarli guarda ho preso moglie non posso e io dicevo dentro di me ma va con tua moglie no ma aspetta il campo lo puoi visitare il giorno dopo i buoi li puoi provare il giorno dopo le nostre scuse fanno ridere le nostre scuse sono veramente tremende sai perché questi uomini a un certo punto hanno tanti doni i buoi gli affetti i beni chi ha non accetta l'invito perché si ritiene già ricco si ritiene già sazio forse già sazio di quello che ha ma guarda che i beni gli affetti quello che tu hai sono gli strumenti che Dio ti ha dato e che ti possano aiutare a crescere e spesso noi facciamo diventare lo strumento il fine della nostra vita questa è la confusione ragazzi quando i nostri beni i nostri affetti diventano il fine invece sono lo strumento per crescere per esplodere nella vita che strano che siamo noi uomini gli strumenti che nel piano di Dio ci aiutano a crescere diventano l'oggetto della nostra ansia di possesso credendo che avendo i campi i buoi gli affetti tu hai tutto quanto è grande l'errore allora attenzione che ciò che ci è donato per crescere nelle relazioni non può trasformarsi in autorealizzazione le nostre scuse ci fanno vedere i nostri piccoli amori e chi vive di piccoli amori morirà veramente come deluso nella vita stai attento ciò che tu possiedi ti possiede il cuore se prima se tu non riconosci di averlo ricevuto in dono allora attenzione il campo i buoi la moglie sono le nostre giustificazioni questi invitati che si giustificano si giustificano perché fondamentalmente perché perché non sanno condividere questo è il grande dramma di chi vuole tutto ma non è capace di condividere allora questi tre invitati non sanno condividere e chi non sa condividere non sa fare festa ecco perché non entrano nella festa non entrano perché non sanno condividere e in realtà questi invitati hanno una grande paura hanno la paura di essere gratuiti tanto ricevuto tanto restituisco allora ti lascio una domanda tu nel 2014 scrivitela ricordatela questa domanda tu nel 2014 perché cosa sei entrato in ansia quali sono stati i motivi delle tue ansie nel 2014 rispondi e così riconoscerai qual è il tuo difetto di impostazione e lascialo qui queste ansie lasciale qui non te le portare per il 2015 altro passaggio questo Dio che vuole veramente invitarci a un certo punto sentite che cosa dice il padrone di casa ha dirato disse al servo esci subito per le piazze interessantissimo questo Dio ha dirato che bello questo suo tratto di umanità Dio quasi non capisce com'è possibile è stupito che tu non accolga il suo dono il suo appuntamento il suo invito quasi non riesce a capire com'è possibile che tu non accogli la bellezza dentro nella tua vita che bello Dio nel suo fuoco nella sua passione è tenace è è un innamorato Dio Dio è tenace nel suo fuoco d'amore non demorde lui è deciso a celebrare il banchetto lui è deciso non molla guardate ragazzi che l'amore di Dio l'amore di Dio non torna indietro l'amore di Dio non sopporta la distanza l'amore di Dio non vuole perdere nessuno perché tu vali il suo sangue tu vali il suo amore tu vali la sua ricerca tu vali tutto il suo desiderio e questo invito lui te lo fa continuamente ripetutamente dicendoti lo pago io la pago io questa festa l'ho pagata io dalla croce sono io che ti invito gratuitamente a questa festa e la festa l'invito di questa festa veramente è stato pagato dal suo sangue altro passaggio dice al servi esci subito per le piazze per le vie della città conduci qui i poveri gli storpi i ciechi gli zoppi bellissimo il dio in uscita questa chiesa in uscita questa chiesa che è missionaria alla ricerca di ogni suo figlio attenzione prima c'era chi aveva i campi i buoi gli affetti quindi chi aveva e quindi non accetta l'invito qui invece è detto invita tutti i ciechi i zoppi i storpi qui è invitato chi non ha e si è convinto di non poter avere perché chi erano i ciechi gli zoppi gli storpi erano coloro che non avevano accesso al tempio e il tempio era la relazione con Dio che cosa significa? che il dramma il pericolo grande non è quello di essere esclusi dall'invito di Dio il dramma grande è quando tu ti escludi dagli inviti di Dio e sai quando ti escludi? quando dentro di te inizia a dire ma no troppo bello per essere vero qui c'è la fregatura io non voglio più illudermi con quello che ho combinato faccio talmente schifo che non posso mettermi alla presenza di Dio è meglio non illudersi chi può amare uno come me? sono sbagliato la cosa più terribile nella vita è quando ti inganni e vai a escluderti alla festa che Dio ha preparato per te e quante volte tu ti porti dentro un accusatore che ti fa escludere dalla bellezza della vita allora Dio ci liberi da questo Signore liberaci dalla tentazione di non tentare liberaci dalla tentazione di non tentare e osare e venire alla tua presenza e poi c'è un ultimo passaggio a un certo punto dice Dio c'è ancora posto esci costringeli a entrare perché la mia casa si riempia che bello il Dio dei cristiani è il Dio che ama la pienezza il Dio dei cristiani è il Dio che ama l'abbondanza che la vita sia piena che la vita sia feconda bellissimo perché questo? perché Dio parla il linguaggio degli innamorati io dico sempre quando tu ami una persona non le regali l'anello con il diamantino con il brillantino tu vorresti regalarle la miniera di brillanti di diamanti questo è Dio Dio sogna in grande Dio parla il linguaggio degli innamorati e il linguaggio degli innamorati è di più di più di più e tu questo lo vuoi tu non è possibile che possa tu non puoi desiderare un 2015 inferiore a quello che hai vissuto fino adesso perché per noi la vita è di più sempre perché se non punti al di più c'è qualcosa che non funziona c'è qualche difetto di impostazione qualcosa che si è rotto allora attenzione quello che è il bene è non sopravvivere non vivacchiare diceva Pier Giorgio Frassati ma vivere alla grande Dio non ci giudicherà ricordatelo questo Dio non ci giudicherà sul male che abbiamo fatto ma sul bene che potevamo fare e abbiamo rifiutato questo sarà il grande giudizio d'amore di Dio non sul male che abbiamo fatto ma sul bene che tu potevi fare con il di più e hai rifiutato allora per accoglierci e per concludere questo primo momento allora usciamo da qui desiderosi di farci tre regali tre regali perché se tu ti fai questi tre regali e io mi faccio questi tre regali siamo iscritti più di 1600 se ognuno di noi si fa questo regalo io sono convinto che veramente finalmente finisce questa ti sei accorto quando ci si parla tra amici tra persone tra colleghi quanta stanchezza c'è in questo mondo ma ve ne siete accorti di quanto di quanto tiepidume quanta stanchezza quante brutte notizie allora facciamoceli questi tre regali facciamoceli questi tre regali e portiamoli a casa e portandoli a casa li contagieremo perché se tu c'hai questo regalo potrai contagiare qualcosa di meglio intorno a te il primo è una parola bella che ci regala l'Apocalisse al capitolo 21 al versetto 5 è Dio che ti dice guarda faccio nuove tutte le cose il primo regalo è questo guarda faccio nuove tutte le cose ricordatelo questo Dio non fa cose nuove ma fa nuove tutte le cose però l'importante è che tu guardi tu spesso nella vita invece vedi vedi tante cose ma noi vediamo l'apparenza solo chi guarda vede il collegamento con l'autore solo chi guarda in profondità vede il legame con chi rende viva ogni cosa allora ricordatelo solo chi guarda in profondità riconosce gli appuntamenti di Dio e il primo regalo che ci facciamo è questo decido decido qui ora alla Porzuncola decido qui ora d'ora in poi Signore di esserci tutto nei tuoi appuntamenti prendilo come come regalo veramente decido di esserci negli appuntamenti che mi darai Signore perché tu all'appuntamento di Betlemme e all'appuntamento del Calvario tu Signore c'eri tu non sei mancato Signore all'appuntamento di Betlemme e all'appuntamento del Calvario decidi anche tu fallo fatti sto regalo quest'anno 2015 di non saltare gli appuntamenti che Dio ti dà senti questa storia che dei frati che vivono in Amazzonia ci hanno raccontato in una tribù dell'Amazzonia l'adolescente per diventare adulto viene mandato una sera nella foresta da solo bendato non può togliere la benda fino a quando non sentirà il calore del sole il giorno dopo sulla sua pelle e capirà che finalmente è giorno se ciò accadrà avrà superato la prova e sarà diventato adulto nella notte il ragazzo proverà grande paura sentirà rumori strani quelli della foresta sarà inquieto e non potendo scappare pena il fallimento della prova farà una piacevole scoperta la cosa bella è che questo ragazzo quando al mattino si toglierà la benda vedrà seduto davanti a sé suo padre che ha vegliato per lui tutta la notte perché nulla di male potesse colpirlo anche quando a te sembra di essere bendato e ti attanaglia la paura c'è accanto a te di fronte a te un padre che non ti mollerà mai questa è la novità del nostro Dio si chiama Emanuele Dio con noi allora accogli gli appuntamenti dell'Emanuele secondo regalo la vita la tua vita la vita è prepararsi a portare frutto allora io prego che ci sia una domanda in questo 2015 che ti inquieta che ti tormenta ma io che uomo voglio diventare ma tu che donna vuoi diventare la vita è prepararsi a portare frutto tu che donna vuoi diventare che uomo vuoi diventare ricordati che l'immaturo cerca sempre le scuse la persona matura cerca la strada l'immaturo continuamente cerca le scuse l'abbiamo visto l'abbiamo ascoltato degli invitati che continuamente cercano scuse la persona matura cerca una strada e la strada è colui che un giorno dirà io sono la via che porta alla verità e alla vita allora qual è il secondo regalo è che se vuoi capire che uomo che donna vuoi diventare devi capire come fino ad ora ti sei giocato nell'amore lì c'è il segreto vai a vedere le tue relazioni in famiglia nelle amicizie nelle relazioni di coppia nella preghiera nel servizio con i poveri vai a vedere come ti sei speso come ti doni comincerai a comprendere l'amore che Dio ha seminato dentro di te amore seminato del quale ti devi prendere cura la vita è prepararsi a portare frutto secondo regalo quindi decido qui ora con l'Emmanuele decido qui di imparare in questo anno ad essere gratuito a servire gratuitamente in tutte le occasioni che mi si si presenteranno signore faccio servizio gratuito non cerco il mio interesse guarda che chi aggancia questi regali svolta nella vita decido di servire gratuitamente senza chiudere le porte a chi mi busserà perché tu signore non mi hai chiuso la porta ma anzi mi hai lavato i piedi ascolta questa storia una storia vera era settembre del 1941 i giorni del capodanno ebraico e 4.000 ebrei di una cittadina della Lituania vengono condotti al cimitero per essere abbattuti sul bordo delle fosse comuni è una strage ben pianificata efficiente a gruppi di 20 si devono spogliare nudi e ricevere la raffica uno di loro un ragazzo di 16 anni si spoglia insieme al padre si concentra sulla cadenza degli spari ascoltati prima del suo turno hanno ripetizione regolare che lui cronometra a mente quando tocca lui si butta nella fossa un istante prima degli spari cade vivo sul mucchio dei corpi nudi morti o in agonia su di lui cadono altri uccisi è buio quando tutto è finito si alza districandosi dai cadaveri ricoperti di sangue e di escrementi cammina veloce verso le case illuminate dei non ebrei cioè dei cristiani bussa le porte e ovunque si sente rispondere di tornare alla fossa da dove è venuto infine batte a un uscio isolato dove vive una donna anziana sola questa donna lo accoglie armata di un tizione ardente per respingerlo allora il ragazzo le dice donna ma non mi riconosci sono il tuo salvatore sceso dalla croce la donna si butta in ginocchio lo fa entrare lo lava lo veste lo nutre dopo tre giorni il giovane si congeda ordinandole di non dire della sua venuta poi si inoltra nei boschi si unisce ai primi insorti si batte per la giustizia sopravvive questa non è una parabola è una storia vera accaduta a Zvi Michaloschki quanta gente ha bussato alla tua porta come cristiano e tu gli hai detto torna alla fossa questo significa iniziare a servire gratuitamente perché chi non serve non serve a niente quanti crocifissi oggi stanno bussando alla nostra porta e noi continuamente gli diciamo torna nella tua sepolcro allora facciamocelo questo regalo decidi qui di imparare a servire da cristiano terzo regalo ultimo e concludo riscopro l'importanza e la bontà di ogni frammento di tempo riscopro l'importanza e la bontà di ogni frammento di tempo c'è una parabola della mistica sufi che descrive la vita come una clessidra una clessidra la nostra vita come una clessidra che si svuota inesorabilmente ma con gioia la sabbia cade e scorre come il tempo ma qual è la gioia della clessidra la grande gioia della clessidra nasce da una certezza sa che una mano all'improvviso la prende e la gira questo è il nostro dio quando ti sembra che ogni tempo ogni istante sia finito tu devi chiedere alla grande mano di dio di prenderti e di rigirarti e il collo della clessidra quella porta stretta sai che cos'è? è la cosa più bella che forse i tuoi genitori o i tuoi nonni ti hanno insegnato è la preghiera e la preghiera più bella è dire grazie il terzo regalo decidi qui ora con l'Emmanuele vivo qui tra noi decido tutte le sere di ritagliarti tre minuti per dire tre grazie di quella giornata tu ti accorgerai quanto la gente intorno a te dopo un mese due mesi un anno ti cercherà perché chi ti incontra vede una possibilità perché solo la gratitudine forma un cuore gratuito e solo la gratitudine e la gratuità ti rende grazioso cioè bello e chi è bello è contagioso attira allora decido qui di vivere ogni sera questo momento intimo con lui con Dio dicendogli tre grazie sai perché perché lui è dall'eternità che ti dice sei un prodigio io ti ringrazio che tu ci sia Dio ti ringrazia che tu esista che tu esisti che sei vivo allora non vi leggo più una storia ma vi dico una cosa molto bella un giorno domandarono a una clarissa una monaca le domandarono le domandarono in modo anche molto molto semplice cosa fa una clarissa e la clarissa rispose la monaca rispose in modo così semplicissimo una clarista sta sotto lo sguardo di Dio sta sotto lo sguardo aperto gli occhi aperti di Dio e incalzando la domanda ulteriormente le chiesero e che cosa dice una clarissa a Dio una monaca a Dio dice a Dio non chiudere mai gli occhi su questo mondo allora diamo il benvenuto a questo 2015 decidendoci di esserci ad ogni appuntamento con Dio di esserci nel servizio gratuito per ogni persona che bussa alla nostra porta e il terzo regalo decidiamo di imparare a dire grazie per ritornare a essere belli contagiosi allora vi accorgerete che questo 2015 sarà davvero un buon anno sarà un anno bello sarà un anno dentro il quale riscopriremo la gioia di essere figli di Dio di essere benedetti da Lui riscopriremo un padre che ti dice grazie perché sei vivo